È stato inaugurato il reparto di emodialisi dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato una superficie di circa 480 metri quadri in cui hanno trovato spazio 6 camere di trattamento con 20 posti letto. È stata inoltre realizzata la nuova centrale di biosmosi al piano seminterrato per una superficie complessiva di 100 metri quadri, oltre alla nuova sede per gli operatori del 118. Con i nuovi spazi in emodialisi è possibile trattare fino a 80 pazienti al giorno. Le dialisi all'annunziata avranno un salto di qualità con impianti tecnologici d'avanguardia che rendono questa realtà un punto di riferimento non solo in Toscana ma anche in Italia. È la dimostrazione che i lavori per l'ammodernamento e l'innovazione nei nostri settori d'avanguardia anche da un punto di vista ospedaliero proseguono nonostante l'impegno sia ogni giorno per un'emergenza sanitaria che passi dal fare vaccini, dal contrastare il Covid, da riportare a una normalità che siamo i 700 anni di Dante per rivedere le stelle e per ritornare a una società che possa vivere la sua dimensione ordinaria. L'importo dell'intervento è stato di 645.000 euro per i lavori e di 120.000 euro per l'impianto di biosmosi per un investimento complessivo di oltre 900.000 euro. I trattamenti annuali all'ospedale Santa Maria Annunziata sono circa 12.500.